Le poste italiane hanno comunicato alla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese la rimodulazione delle aperture estive. La missiva è stata pubblicata anche sul sito dell'ente. Si informa che per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto, si legge, gli uffici postali di Santa Lucia Belvedere, Battipaglia 1 e 2 e Battipaglia saranno assoggettati al seguente intervento di rimodulazione. Santa Lucia, chiusura 10 giorni, 12, 13, 19, 20, 26, 27 luglio, 16, 17, 23, 24 agosto. Invece a Belvedere 6 giorni, 15, 22, 29 luglio e 10, 19, 26 agosto. Battipaglia 1, 7 giorni, 15, 20, 27 luglio, 10, 16, 17, 24 agosto. Battipaglia 2, chiusura pomeridiana dal 9 al 26 luglio e dal 5 al 14 agosto. Battipaglia, chiusura pomeridiana dalla 16 al 30 agosto.